Potrebbero sembrare immagini di repertorio, immagini realizzate prima dell'emergenza e dei vari decreti governativi, ma non lo sono. Si tratta di riprese girate questa mattina intorno alle 11 in via Esistenza Partigiana e in piazza Libertà Modica. Un traffico di auto ingiustificato e insolito in una città che si è sempre dimostrata responsabile. Automobili in transito, tra l'altro, in orari lontani da quelli classici di punta, che quindi preoccupano perché proprio in questo periodo è fortemente raccomandato non abbassare la guardia e dove si esorta a un alto senso di responsabilità. Per questo il comune di Modica ha presa la notizia immediatamente potenziato i controlli da parte della Polizia Municipale con ronde su tutto il territorio. Polizia locale, che lo ricordiamo, proprio oggi si ritrova con il personale sensibilmente ridotto perché in gran parte è dirottato a presidiare gli uffici postali a causa del ritiro delle pensioni. Su questo fronte, fortunatamente, non si sono registrati assembramenti di persone e la presenza di un agente ha certamente favorito il regolare ingresso di persone in attesa davanti gli uffici postali. Oggi, secondo giorno di erogazione delle pensioni anticipate del mese di aprile, senza nessuna criticità, così come fortunatamente registrato anche ieri. Quello che però preoccupa è che certamente non è riconducibile al ritiro delle pensioni e invece, come già detto, il traffico veicolare insolito di questa mattina. Un paradosso, visto che se da un lato l'amministrazione tenta di mettere in sicurezza i cittadini riducendo drasticamente le fermate degli autobus exturbani, dall'altro molti modicani continuano a circolare liberamente all'interno del proprio comune. Ed ieri anche la notizia ad un uomo che invece di rispettare il periodo di quarantena è stato sorpreso dalla polizia locale mentre girava tranquillo per la città passando dalla farmacia al bar tabacchi. Ovviamente, la speranza è che tutti gli automobilisti visti oggi, anche se non poi controllati, sarebbero comunque stati in grado di fornire l'autocertificazione e soprattutto un valido motivo della propria presenza in strada.